Siamo al compound delle suore, mi ha ruato E' bellissimo Si sta benissimo E c'è una pace L'hai vista prima Siamo a 2000 e passa metri Questa è la chiesa Tocchiamo il campo da calcio dei ragazzi Quando finiscono a scuola Il pomeriggio giocano qua Buongiorno Siamo appena arrivati a scuola Sono le 9 Siamo Su un paese più sud di Aroquato La scuola è enorme Qua ci stanno 500 ragazzi Siamo Nel mattino Per la biblioteca Ma anche quando un' teache è morto Quindi c'è un' teache Che è responsabile del libro Quindi prende i bambini Quindi in questa lezione Non hanno un' teache Di stare qui Sì, quello che siamo Sì 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 Questa sarebbe zona merenda allora? Sì, sì, sì. Libreria. Eh, ci siamo quasi a 200 anche qua, eh? Questo è proprio un villaggio... Da notare le dimensioni enormi dei banani. Fuels e banana. Fuels e banana. Questo è un piccolo villaggino, piccolo piccolo piccolo. Di fianco al nostro. Questa è la pianta di caffè. Ah, la pianta di caffè. Ma deve diventare rosso. Il tronco. Ah, la parte... ma per... Per fare... Quello lo mangiano. Ah, for eating? Sì, 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 sì. Il coccio deve crescere. Sei anni. Sì, sì. È un lavoro pesante. Perché... Ogni foglia li devono... Come... Raspare, no? Raspare, 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 raspare. Sì, sì. 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 Ti muratori dell'Africa. stiamo provando a giocare al gioco del fazzoletto fritte il bollo adesso facciamo il riso allora oggi è domenica siamo andati a messa presto 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 alle 8 e mezza la messa ha durato fino alle 12 quasi poi abbiamo pranzato abbiamo fatto da mangiare noi abbiamo fatto il pollo con le patate fritte una salsina di avocado e un po' di riso bianco adesso c'è un grande match qua dei ragazzi Milan-Manchester United e andiamo a vederlo un po' siamo in vantaggio sugli avversari per 2-0 2-1 vediamo se arriva al terzo gol per poco per poco mi sa che c'è aria di rigore qua calcio di rigore poi gli avversari e vediamo pareggio pareggio stasera siamo senza corrente proviamo una missione impossibile cucinare la pizza nella stufa a legna nella fornea speriamo bene non abbiamo neanche la temperatura giusta noi ci proviamo lo stesso un pastino poi abbiamo fatto la salsita un po' di patate poi prendiamo le zucchine basilico sul po' di tono stiamo finendo la cottura della pizza in forno forno a legna non si scherza qua la robetta speriamo che sia cotta bene perché ci vuole tempo pizza I think it's good pizza come, 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 come come, come come, come, come come, come, come come, come, come cheese, dai italian pizza in arobatto taste good ok I am happy